Noi cari amici proseguiamo nella nostra catechesi, il tema di fondo di questo ciclo di catechesi è la meraviglia di esistere, perché cari amici voglio appunto che a fronte della vita nella consapevolezza è che è un grande dono, che è una grande opportunità, che è un'occasione unica che la vita va realizzata secondo un progetto divino e quindi non va buttata, non va diciamo sprecata anche perché comunque tutti quelli che hanno saputo impostare la vita nella luce della fede poi sono persone che sono felici, sono persone soddisfatte, come dice la Madonna voi incontrando Dio scoprirete la bellezza e la grandezza della vita non la maledirete, la benedirete non solo, ma la vostra vita stessa sarà una benedizione per gli altri dunque noi abbiamo detto cari amici che tutto sommato nella prima catechesi abbiamo detto una cosa molto semplice e banale ma che comunque è fondamentale cioè che l'uomo non ha come gli animali soltanto il problema del vivere o del trasmettere la vita ma si pone il problema del senso della sua vita perché è dotato di intelligenza, di libertà, di coscienza, di responsabilità e quindi si pone delle domande, degli interrogativi che sono incancellabili cioè uno se li porta dentro, cioè se li porta dentro il bambino diceva un grande psicologo, filosofo francese che mentre in carcere nel tempo del nazismo aveva scritto un capolavoro di psicologia, si chiama Emmanuel Mounier e quel libro l'ho letto dalla mia giovinezza mi ha sempre aiutato tanto a capire tante cose lui dice che i ragazzi, i bambini dal 14 anni è l'età dei perché cioè si pongono un sacco di perché e li pongono ai genitori pongono tutti quelli che riescono a dare una risposta perché appunto l'uomo è un essere ragionevole, ha un'intelligenza si pone i perché, ora molti perché che si pongono i ragazzi sono la nostra portata e quindi possiamo rispondere anche noi però ci sono dei perché fondamentali, insopprimibili che sono perché di carattere esistenziale, filosofico, teologico chiamatelo come volete, a cui è difficile rispondere insomma e quindi chi ha fatto il mondo per esempio una domanda che si pongono ai bambini perché la nonna è morta perché i perché esistenziali i perché esistenziali sono nati con l'uomo li portano nel suo cuore riguardo il senso della sua vita questi sono insopprimibili quindi è inutile cercare di diciamo così ovattarli, di seppellirli perché poi si vendicano creano delle nefrosi creano delle depressioni creano una visione pessimistica della vita fanno dilagare i suicidi come effettivamente succede in questo tipo di società atti e materialisti dove prospera il suicidio la cultura della morte allora noi abbiamo messo in chiaro nella nostra prima catechesi tutta una serie di perché che riguardano l'interpretazione della vita cioè che cos'è la vita cosa serve alla vita come impostare la vita cos'è il bene cos'è il male perché si soffre nella vita perché c'è il male nel mondo perché ci sono gli uomini cattivi insomma una serie di problemi che insieme possiamo chiamarlo la visione della vita che uno si costruisce man mano ebbene cari amici quello che vorrei mettere in evidenza in questa in questa catechesi è che la sua storia l'umanità non è riuscita a rispondere con la sua ragione a tutti i perché perché la ragione è limitata perché un po' la ragione è oscurata anche dal peccato delle origini ma alla fin fine noi vediamo per esempio che tutte le filosofie che si sono alternate nella storia dell'umanità se voi avete fatto il liceo avete studiato filosofia vi siete resi conto che un filosofo contesta quello precedente e così via per cui alla fine uno dice ma chi ha ragione la filosofia è il tentativo di rispondere perché con la ragione pensiamo a un perché cosa c'è dopo la morte ci dice di tutto e qui dice che con la morte finisce tutto che dice che c'è un'anima immortale cioè la ragione umana ha cercato di rispondere il perché ma alla fin fine voglio citare un un filosofo contemporaneo che scrive anche sui giornali il quale confessa dice ho passato tutta la mia vita a cercare un senso della vita e devo dire che la vita è un mistero è un rompicapo non rompicapo cioè perché esisto chi sono vengo da dio vengo da nulla vengo dal caso cioè la vita è un rompicapo cioè la ragione umana ha vacillato alla ricerca diciamo delle risposte qualcosa di più hanno fatto le religioni nel corso della storia va detto perché comunque le religioni sono un fatto più popolare dove non c'è soltanto la ragione c'è anche il cuore e nelle varie religioni del mondo che nascono dal tentativo dell'uomo di spiegare di cercare un senso della vita soprattutto un senso alla sofferenza e alla morte c'è un grande studioso delle religioni che fosse più grande il romeno Mircea Eliad che ha scritto una storia della religione di 20 volumi che io ho letto sotto il mondo da un ragazzo insomma però ho capito ho capito una cosa che lui gli ha dissi le religioni sono nate dal fatto che l'uomo muore dal fatto che l'uomo muore a far sì che l'uomo a un altro momento cerchi una salvezza dalla morte questo è dunque diciamo il perché la morte è una diciamo così è una radice dove sono nate le religioni dell'umanità perché come si può salvare dalla morte insomma che comunque è quella tragedia che appare all'orizzonte della vita umana appena il ragazzo vede qualcuno che muore con il bambino vede qualcuno che muore è un volone nel cielo azzurro della sua visione della vita qualcosa di più vi dicevo ha fatto le religioni che comunque con tanti errori che ci trovano nelle religioni perché chi le conosce bene sa che c'è di tutto nelle varie religioni umane il cristianesimo è una cosa a parte però perlomeno sono arrivati a dire che esiste un essere supremo insomma che esiste un Dio poi variamente compreso per carità a volte addirittura un Dio feroce come quello degli Astechi che erano sempre in guerra perché il loro Dio aveva sete di sangue però le religioni hanno anche prospettato un al di là una supervivenza dell'anima anche una moralità diciamo nel senso dei comportamenti umani quindi diciamo qualcosa nelle religioni di buono e a passo difatti la chiesa non ha mai demonizzato le religioni umane ha detto che anche in esse ci può essere qualcosa di buono l'ha detto anche la Madonna a Međugorje che anche nelle altre religioni ci può essere del buono c'è del buono perlomeno la preghiera ecco però c'è tanta cosa invece che non sono diciamo così conforme alla verità neanche alla santità vorrei dire quindi in pratica di fronte di perché della vita l'umanità è rimasta diciamo così priva di risposte priva di risposte allora e qui viene cari amici in campo il cristianesimo allora Dio stesso ha voluto dare quelle risposte che noi eravamo incapaci di raggiungere da soli e qui appunto ci ha rivelato attraverso la storia della salvezza attraverso dunque le sue rivelazioni Dio che parla diciamo così a Noè che parla diciamo ad Abramo che parla ai patriarchi che parla a Mosè che parla ai profeti e poi che alla fine rivela se stesso inviando suo figlio ci ha dato la risposta ma una risposta straordinaria bellissima e salvifica ai nostri perché e quindi cari amici questa si chiama la visione cristiana della vita è Dio che si rivela si rivela attraverso gli uomini attraverso quel libro che comunque è codificato come parola di Dio che è la sacra scrittura e lì c'è la risposta a tutti quei perché che abbiamo messo a fuoco nella catechesi precedente e che l'uomo da solo non riesce a raggiungere questa visione ottimistica perché comunque perché il dolore perché il male perché la morte ci sono risposte salvifiche nel senso che Dio non solo ti spiega perché c'è il dolore il male e la morte ma ci salva dal dolore dal male e dalla morte allora questo si chiama con la visione cristiana della vita che è una visione secondo la verità è una visione secondo Dio che è valida per tutti è l'unica risposta ai perché che noi ci poniamo non ci sono altre risposte mi viene in mente una canzone di Bob Dylan che vorrei applicare a questo nostro ragionamento diceva risposta non c'è no risposta non c'è la ragione umana non riesce a dare una risposta a questi perché fondamentali della vita allora si viene incontro Dio e quando voi ragazzi imparate il catechismo voi non avete l'idea di che cosa meravigliosa avete imparato per esempio l'interrogativo questo mondo ma questo mondo da dove viene questo mondo si è fatto da solo è eterno pensate che tutte le culture hanno sempre pensato che il mondo fosse eterno adesso la scienza l'ha messo in discussione il fatto che il mondo sia eterno perché sarebbe già invecchiato e morto a quest'ora perché l'energia si sarebbe esaurita se fosse eterno ma non ha mai saputo dare una risposta all'esistenza del mondo persino i greci per esempio Platone riteneva che Dio fosse un artista che plasma una materia eterna la sacca scrittura ci ha rivelato che Dio ha creato il mondo dal nulla e tu tu quando sei andato al catechismo non ti sei accorto che alla domanda perché il mondo chi ha fatto il mondo ti è trovata una risposta profondissima Dio ha creato il mondo il mondo l'ha fatto Dio e chi ci ha fatto questa risposta la sacca scrittura la divina rivelazione quando appunto la sacca scrittura dice che all'inizio all'inizio cioè quando incominciò il tempo Dio creò insieme al tempo creò il mondo dal nulla dal nulla pensa questa espressione dal nulla è qualcosa di tremendo nessuna filosofia nessuna religione era riuscita a capire che il mondo è stato fatto dal nulla e chi ha fatto questa professione di fede è stata una mamma ebrea la mamma di sette fratelli maccabei che per conservare la loro fede per conservare la loro fede si sono fatti sono morti i martiri tutte e sette però all'ultimo io ero più giovane che stava per affrontare il martirio e quindi la mamma per risultarlo gli ha detto guarda che colui che ha creato il mondo dal nulla ti farà risuscitare questa è la prima professione di fede che troviamo esplicita della creazione del mondo dal nulla ce l'ha detto Dio che l'ha fatto dal nulla cioè prima che Dio creasse il mondo il mondo non esisteva quindi tu pensa che in risposta sia fatto la divina rivelazione il mondo è stato fatto dal nulla è stato fatto dall'onnipotenza divina e perché e chi cioè se tu leggi per esempio la pace della Genesi che divide la creazione in tappe di sette giorni ma con uno schema liturgico per insegnare al popolo ebraico e anche poi a noi cristiani che si lavora sei giorni e il settimo si riposa infatti se tu vai in un ristorante cinese dove non c'è la divina rivelazione lavorano sette giorni alla settimana per tutto l'anno non riposano mai quindi noi invece il settimo giorno riposiamo perché perché Dio il settimo giorno si riposò allora lo schema di sei giorni ma state attenti ragazzi l'uomo viene alla fine dell'universo chi avrebbe mai detto che l'uomo è l'ultima creatura ce l'ha dato la divina rivelazione ma dicendo che l'uomo viene alla fine vuol dire che l'uomo è la massima perfezione è il re dell'universo non c'è nulla nell'universo a parte gli angeli che sono purissimi spiriti che sia più grande dell'uomo tutte queste cose voi dovete parlare del catechismo ma sono le verità che ti illuminano sul senso della vita ti illuminano sulla vita umana quindi la creazione del mondo dall'onnipotenza divina dal nulla l'uomo al centro del mondo per cui cari amici uno dice ma è possibile che l'uomo è meno di un atomo nell'universo è possibile che sia così grande finora finora è il fatto che l'uomo con la sua intelligenza abbraccia l'intero universo e si chiede chi ha creato l'universo si chiede chi ha fatto l'universo quindi io per esempio non mi scaldo molto se vanno sulla luna e poi andranno su Marte vadano anche pure su Giove se vogliono vado pure in vacanza negli hotel che avranno su Nettuno a me cose così mi fanno ridere io col mio pensiero vado al di là di tutte le galassie di tutte le stelle di tutto l'universo creato col pensiero viaggio ovunque e mi chiedo chi ha fatto il mondo e vado oltre il mondo e salgo fino a Dio quindi con la nostra intelligenza noi abbracciamo il mondo intero atto che viaggi spaziali l'intelligenza va al di là dello spazio e del tempo per dire la grandezza dell'uomo uno si chiede ma perché Dio ha creato il mondo con l'uomo al centro del mondo perché scusa chi te lo può dire il giornale di domani mattina te lo può dire perché il mondo è stato creato da Dio nessuno te lo può dire cioè nessuno ti può dire né con uno scienziato ti può spiegare perché esiste il mondo ti può spiegare da dove viene il mondo solamente la parola di Dio te lo dice e la parola di Dio ci dice che Dio ha creato il mondo con al vertice l'uomo perché per amore perché per amore perché ha creato l'uomo capace di amare capace di Dio e ha creato un mondo e gli angeli purissimi spiriti e l'uomo con uno spirito capace di aprirsi all'amore e di decidersi di amare le ha creati perché per avere per condividere ad altre creature il suo amore pensate che nessuna religione è arrivata a pensare che Dio che l'uomo fosse al vertice del mondo perché tutte le religioni si sono aggrovigliate e hanno soggettato l'uomo a tanti spiriti benigni e maligni che fossero a tanti dei per cui quello che ne esce è fuori un panorama veramente desolante e nessuna religione ha potuto pensare che Dio ha creato un uomo a sua immagine e potesse parlargli ascoltarlo amarlo e potesse condividere il suo amore questo è quanto ti rivela Dio cioè Dio ti ha creato a sua immagine ti ha creato capaci di conoscerlo e di amarlo ma non solo in questa vita ma per tutta l'eternità questa cari ragazzi è quella bisogno della vita che vi ha insegnato il catechismo che voi avete già dimenticato ma con la quale capite qual è il senso della vostra vita capite perché state al mondo capite come dovete impostare la vita capite cari ragazzi che senza Dio non si può impostare la vita senza Dio non si va da nessuna parte è come se mancassi il sole che illumina il mondo no? quindi vedete cari amici come in poche parole se avete avuto dei bravi genitori che avevano insegnato le cose più elementari o di bravi catechisti vi hanno spiegato le cose più difficili da raggiungere che la mente umana mai raggiunto quella risposta è il perché che è una risposta vera è una risposta divina è una risposta che soddisfa cioè tu pensando che Dio ha creato il mondo da nulla che ha creato l'uomo al vertice della creazione creato capace di conoscere di amarlo creato con amore tu sentendo queste cose e aprendo il cuore alla fede senti fremere d'amore il tuo cuore lì in questa luce tu scopri allora la mia vita è importante la mia vita è un'apertura all'assoluto un'apertura a Dio la mia vita dove essendo io nel mio cuore uno che ha sede di un amore eterno allora lo posso gustare lo posso avere lo posso condividere questo amore eterno nell'abbraccio con Dio tu in queste piccole e grandi risposte dico piccole perché in fondo sono due righe del catechismo grandi perché ti illuminano tu scopri la bellezza e la grandezza della tua vita la scopri e scopri in questa luce anche il compito della tua vita perché tu capirai allora che fai parte di una moltitudine di persone tutte chiamate a partecipare della gloria di Dio tutte chiamate a partecipare della felicità di Dio quindi tu apprenditi a Dio abbracci col tuo cuore anche tutti gli uomini tu capisci che gli uomini per quanto siano divisi per razze per culture per sesso per quel che volete voi però alla fin fine sono tutti i fini del medesimo padre scopri la vera fratellanza in Dio che è la condivisione di un unico progetto che è il fatto di avere un unico padre per tutti e cari amici man mano che vai avanti nella comprensione trovi anche la risposta ad altri interrogativi che gli uomini da soli non riescono a risolvere per esempio perché c'è il dolore perché c'è la morte questo vi ho detto che è uno degli interrogativi più difficili da risolvere e che la mente umana non l'ha mai potuto risolvere e non si dica per cortesia un cristiano non dica per cortesia che non c'è risposta al perché del dolore al perché della morte perché la sacra scrittura ci dà la risposta cioè il dolore c'è il dolore e la morte nella vita umana perché i nostri progenitori all'inizio della storia umana hanno voltato le spalle a Dio e quindi hanno perso i doni di Dio in particolare i doni dell'immortalità e i doni dell'assenza del dolore perché questo era il progetto di Dio creare l'uomo che fosse felice anche su questa terra senza il dolore il male e la morte ma avendo gli uomini ascoltato il diavolo avendo seguito il diavolo hanno perso Dio e hanno perso tutti i doni che avevano avuto in particolare il dono dell'immortalità poi sofferenza e morte sono attaccati la sofferenza la morte è il prolungamento della sofferenza quindi è per colpa nostra che c'è il dolore e la morte nel mondo questa è la risposta che ti dà Dio e che tu devi accoglierne la fede e che nessuna religione nessuna filosofia è capace di rispondere al perché il dolore al perché la morte capito c'è magari la ribellione tante filosofie per esempio sono le funzioni della ribellione che si ribella alla vita perché guarda che schifo che fa oppure si imprega contro la natura come facevano i leopardi e comunque anche noi diciamo la verità ogni volta che siamo veramente con l'acchio alla gola insomma ci lamentiamo a volte imprechiamo a volte facciamo anche di peggio bestemmiamo perché non riusciamo a capire perché c'è il dolore e la morte questo ce lo rivela Dio è che per colpa nostra però Dio nel medesimo tempo ci rivela che lui è un padre buono e non ci ha abbandonato in mano al maligno al dolore al male e alla morte e Dio ci rivela che invece lui si è fatto carico del male che noi abbiamo provocato e che ha inviato suo figlio qui su questa terra proprio per per illuminarci con la sua dottrina che noi abbiamo codificato nel Vangelo che dà la luce della vita le risposte a tutti i problemi della vita in modo particolare il problema del bene e del male ci indica la via del bene ci indica la via del male tutta la sacra scrittura ma in particolare il Vangelo risponde alla domanda che cos'è che è bene che cos'è che è male noi molte volte a questa domanda rispondiamo ma sì lo decide lo Stato lo decide la maggioranza ciò che è bene ciò che è male per cui se lo Stato decide che l'aborto si può fare vuol dire che ha un bene no invece no cari amici noi abbiamo Dio che siamo tutti i tici i comandamenti altrimenti invece i comandamenti ci dice ciò che è bene ciò che è male c'è un comandamento che dice non uccidere c'è un comandamento il Stato dice non commettere adulterio sono gli spalti acqui fra il bene e il male che Dio ci ha dato perché noi con la nostra mentalità siamo anche portati con la nostra debolezza con la nostra doppiezza siamo anche portati a dire che il male è bene che il bene è male e siamo portati a scegliere quello che ci fa comodo e quindi cari amici non abbiamo più la capacità di vedere ciò che è giusto e ingiusto e di vedere ciò che è bene e male quindi Dio stesso ci ha rivelato ci ha risposto alla domanda che cos'è il bene che cos'è il male e lo fa attraverso la divina rivelazione ma lo fa anche attraverso la voce della coscienza attraverso la voce della coscienza cari amici a meno che non l'abbiamo proprio soffocata del tutto o non l'abbiamo come si dice addomesticata o non l'abbiamo falsificata o l'abbiamo allargata come dicevano una volta i teologi la coscienza grassa no? cioè praticamente uno uno ingoia tutto oppure una volta si dice quello lì senza coscienza cioè può aspettarvi tutto da quello però se uno rispetta la sua intimità sente la voce di Dio che ti dice non puoi uccidere non puoi abbandonare una persona che ha bisogno e la lasci morire non puoi rubare e derubare una persona del suo lavoro eccetera non puoi uccidere un innocente non puoi neanche uccidere uno che non è innocente la vita non ti sei più il prodotto della vita quindi abbiamo cari amici questa indicazione divina che ci dice ciò che è bene ciò che è male ma poi Dio nella divina rivelazione l'ha messo a fuoco soprattutto del Vangelo dove appunto tutto il bene viene riassunto nel comandamento dell'amore e tutto il male viene sintetizzato invece del vizio dell'egoismo insomma e dell'io prepotente prevaricatore ecco dunque vi ho cari amici messo a fuoco alcune risposte che che voi avete già avuto voi le avete già ricevute dei vostri genitori perché comunque anche se non sono diciamo così ferrati nella fede però comunque un po' di visione cristiana della vita l'hanno assorbita e quindi anche voi avete assorbito diciamo così le risposte più elementari ai perché della vita però ragazzi è quello che vorrei mettere a fuoco diciamo così nella nella categoria successiva voi adesso vi trovate in una situazione particolarmente difficile rispetto ai vostri genitori perché i vostri genitori i vostri nonni sono cresciuti in un ambiente diciamo così dove la società condivideva la visione cristiana della vita per cui diciamo veniva assimilata era anche la visione pubblica era anche la visione dei mass media come diceva San Benevetto diceva Benevetto Croce non possiamo non dirci cristiani anche se non abbiamo proprio una fede in Dio però crediamo in tutti i valori cristiani anche oggi ci sono pensatori che dicono non so se Dio esista o non esista però condivido tutte quelle risposte ai problemi esistenziali che viene data dal cristianesimo insomma quindi cos'è il bene cos'è il male tutta la la tematica della della carità che c'è verso le persone che soffrono è tutto tipico del cristianesimo questo l'abbiamo assimilato l'hanno assimilato cioè c'era una visione della vita che era cristiana ecco per cui invece adesso si sta diffondendo un ateismo di massa ragazzi questa è la vostra difficoltà cioè avete assimilato poco della visione cristiana della vita avete non avete approfondito la risposta agli interrogativi di fondo e non avete neanche una capacità di rispondere all'interrogativo io chi sono che senso ha la mia vita da dove vengo dove vado qual è la mia missione cosa devo fare cioè siete già fragili diciamo dal punto di vista della fede poi andate a scuola nella società dove si sta imponendo una visione della vita dove tutti questi perché che vi ho detto siccome non sanno rispondere vengono ritenuti inutili o comunque danno risposte false per cui tu ti trovi trovi appunto di fronte a una visione della vita che è totalmente diversa da quella cristiana ed è una visione vi anticipo quello che dirò nella prossima catechesi che è falsa che è degradante che non ha rispetto dell'uomo che riduce un animale che fa dell'uomo una cosa manipolabile e che e che se è vero che nella fede scopri la bellezza e la grandezza della vita con questa visione della vita attiva materialistica non ti resta che maledirla non ti resta che sopportarla perché bisogna comunque portarla avanti ma non la godi non sei felice non hai prospettive oltre alla morte non hai prospettive neanche diciamo così per quanto riguarda le gioie quotidiane perché tutto è falsificato tutto è messo nella diciamo così nell'ambito delle tenebre vorrei farti poi comunque svilupperemo nella seconda parte della nostra catechesi ragazzi svilupperemo meglio questo concetto cioè la vita la visione della vita cristiana è come se fosse un pellegrinaggio tu fai una bella gita in montagna lunga sai che comunque c'è la vetta e cammini fatichi sali ti riposi vai avanti poi arrivi in cima alla montagna sei felice hai raggiunto invece la visione della vita che ti propongono oggi ragazzi è una corsa forse nata in un labirinto senza luce dove non c'è nessuna uscita e li corri 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 fino a stramazzare questa è la visione della vita ragazzi che è alternativa a quella cristiana e ora noi nella seconda parte della catechesi metteremo bene a fuoco perché non abbiamo ancora finito la visione cristiana della vita e poi quella alternativa che vi viene data come un veleno come un ossido di carbonio che vi uccide che viene combinata ormai dalla cultura dominante che domina nelle scuole in mass media nella visione del mondo comune per cui uno dice ma allora cosa sono venuto al mondo a fare sono venuto al mondo a fare a lavorare a faticare e basta avete capito cari amici come ha ragione la madonna che senza la fede non scoprete mai la bellezza e la grandezza della vita ma noi questo è l'obiettivo che ci poniamo nel nostro ciclo di catechesi cioè scoprire la bellezza e la grandezza della vita e la meraviglia di esistere ma questo non lo si può fare senza la fede grazie a tutti